Mamma Chiara dà la pappa alla piccola Vitto. È difficile che la vediamo in questi panni, ma comunque è molto dolce. E' la tua prese? Io do la canela preferita. Quella con la banana? E' più dolce quella. Vieni amore. E lì la portetta. Vieni amore. La dolce Vitto non fa i capricci con Mamma Chiara e la vediamo che mangia piano pianino.